Procter & Gamble 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 Quale abbiamo buoni sconto come Dash, Via Cal Ambipur, Gillette non correre altrimenti non riesco a girarvi in tempo Ambipur vi darà la possibilità di assaggiare gratuitamente il nostro Red Bull Oggi lo proviamo a fare a miscelato giusto? Come si fa? Allora, esistono 5 tipi di cocktail che oggi proviamo, due di quali sono pre-dinner e tre after-dinner. Esatto, due pre-dinner che utilizzeremo ovviamente il Campari e l'Apero, invece gli after-dinner sono con vodka classica, invece vodka al gusto di pesca e al gusto di fragola. Qual è il tuo preferito? Un Campari. Un Campari, vero, già lo so, il mio preferito invece con Apero. Basta comprare uno dei quattro imballi che partecipano alla nostra promozione. Quali sono? Tu lo sai, Elena? Certo, ma lascio a te la spiegazione. Brava, esatto. Abbiamo l'imballo da 18 pezzi del tonno Rio Mare, 120 grammi nella confezione 3 più 1, poi abbiamo l'imballo da 18 pezzi di insalatissime Rio Mare, 160 grammi in due pezzi ciascuna, l'imballo da 12 pezzi di filetti di tonno 180 grammi al metro e poi l'imballo combinato 25 pezzi di sgurro. Ovviamente stiamo parlando dell'attività di ora mazzotti naturale. Perché naturale? Lo sai? Perché naturale? Senza conservanti e senza coloranti. Brava, senza coloranti, senza conservanti, solo con le erbe aromatiche e il succo dell'arancia dolce che è quello che dà questo colore così arancione, così ambrato. 5 a 6 mi sembra sono usato. Dopo domanderemo ai vari ragazzi. Siete fidanzati? Potete dire di sì con la testa del mondo. Sei fidanzato? Sì. Sì, sei fidanzato.